Di un nuovo impianto natatorio la terza città delle Marche ne ha bisogno come l'aria per respirare, potremmo dire. Un sogno per molti, un chiodo fisso per altri. Di discussioni e dibattiti sul dove e sul come realizzare questo impianto ormai sono pieni fossi. E tutto è rimasto lì, nel limbo delle desiderata. Oggi però uno spiraglio, grazie alla firma di una lettera di intenti, che più che uno spiraglio è una porta aperta, diremmo, su questa possibilità, si è aperto questa mattina. Durante il consueto saluto di fine anno della Fondazione Casa di Risparmio sono stati messi sul tavolo 20 milioni di opere pubbliche da realizzarsi grazie all'intesa tra Fondo Cives, Comune di Fano e Fondazione. Un'operazione, questa ha sottolineato il sindaco Massimo Seri, che cambierà il volto della città, dando un nuovo impulso ad un settore, quello edile, stagnante da tempo, creando occupazione ed economia. Oltre alla piscina, nella zona dell'aeroporto verranno realizzate una RSA da 110 posti, trasformando la casa di riposo Don Tonucci a San Lazzaro e 75 alloggi sociali nella localizzazione del Carmine a Gimarra, realizzata appunto dal Fondo Cives. Il tutto grazie alla vendita proprio della casa di riposo di proprietà della Fondazione al Fondo Cives. Dopo un anno di intensa attività, di accordi, di incontri con il Comune, eccetera, finalmente riusciamo a sottoscrivere un patto d'intesa per realizzare a Fano delle strutture importantissime, case di housing sociale, 75, 80 appartamenti, una piscina, la RSA. Un importo di lavoro ritengo intorno ai 25 milioni di euro, senza intervenire neanche con un euro con la finanza locale, perché la Cassa dei Posti e Prestiti finanzia più del 60% di queste iniziative. Quindi porterà lavoro sia per la costruzione di queste opere, sia poi per la gestione di queste opere.